La grande risposta del Ligor Gorgonzola, Novara al Palaverde, si prende la rivincita dopo la sconfitta in Supercoppa con la formazione di Limoco Vole Conegliano. Un successo che fa capire quanto sta crescendo la formazione di Massimo Barbolini. Un grande ritorno, Stefana Velkovic, in Italia con una grandissima squadra. Sì, abbiamo ultimamente lavorato tanto per arrivare, per vincere oggi, nel senso che la Supercoppa non abbiamo giocato nel livello come possiamo fare. Ma sono contenta e è una grande vittoria per noi, anche per la testa, anche per la classifica che adesso siamo un po' più tranquille. Una bella classifica, solitaria al comando, è una stagione molto aperta secondo te? Sì, una stagione lunghissima e fortissima secondo me, perché abbiamo anche tante cose da fare, il campionato italiano ma anche la Champions. Ritornare in Italia e trovare tante campionesse vicino a te, ad esempio una come Paola Egonu? Posso dire che è molto più facile giocare così, con un atleta forte. Non sono una, ci sono tante nella squadra, ma mi sento più tranquilla quest'anno. Arrivare in Italia con il titolo di campionessa del mondo, cosa significa? Dove aver battuto proprio l'Italia? Io anche, sinceramente, non ci penso neanche più a queste cose. È vero che è una emozione gigante, non posso neanche spiegare come mi sento, ma ho già dimenticato questo, che mi devo concentrare per il campionato italiano, che è duro. Quindi la mia testa è qui, sono qui. Vincere cosa? Se dovessi fare una scelta? L'Ora Lampiade. Grazie.